santi aquila e priscilla aquila era un ebreo oriundo dell'asia minore che insieme con la moglie priscilla aveva un'azienda a roma che lavorava stoffe e cuoio per un editto di claudio vennero espulsi da roma con gli altri ebrei per i continui scontri interni alla comunità il conflitto era generato dal contrasto tra gli ebrei che vedevano in gesù il messia come aquila e priscilla e quelli che invece lo respingevano espulsi da roma andarono a corinto dove impiantarono una nuova fabbrica presso la quale si stabilì l'apostolo paolo vivevano di lavoro manuale e annuncio del vangelo per seguire paolo si trasferirono ad efeso dove avviarono un'altra azienda imprenditori tra i migliori divennero proprietari di una grande casa capace di ospitare la comunità cristiana del luogo grazie a tutti